Musica Brutta storia di violenza familiare a piedi mulera, ubriaco, picchia l'anziana madre, il cinquantenne è stato arrestato. Ospedale nuovo, Pizzi ha inviato all'assessore Icardi i dati tecnici richiesti sull'area di regione Boschetto. Funi via Stresa, i vigili del fuoco hanno portato alla stazione dell'Alpino, la cabina rimasta sospesa il 23 maggio. Altro passo verso la realizzazione del progetto di casa Mantegazza di Omenia, oggi firmato e vogito. Dopo lo stop del 2020, sabato Stresa torna il ballo delle debuttanti, venerdì al Maggiore, spettacolo teatrale dedicato al primo ballo. Calcio, CSI continua la marcia dell'Atletico Coggia nel girone A, la capolista ha fatto poker vincendo 5-2 contro l'Arcadias. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizia. Allora, lo avete sentito dai titoli, in apertura abbiamo davvero una brutta storia familiare che arriva da piedi mulera, dove i carabinieri di Premosello Chiovenda hanno arrestato un giovane. Per quale motivo picchiava la madre? Ha picchiato la madre di 82 anni, un'ennesima storia di violenza familiare che questa volta arriva dall'Ostola, da piedi mulera, come vittima un'anziana aggredita dal suo stesso figlio. L'uomo di età intorno ai 55 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Premosello Chiovenda e del nucleo operativo radiomobile. La signora era riuscita a chiedere aiuto, chiamando il 112. Aveva detto che il figlio ubriaco l'aveva picchiato. Quando i militari sono arrivati sul posto, l'hanno trovata in un bar vicino a casa, in stato di shock, con evidenti lividi sulle braccia e sulle gambe. La signora è stata soccorsa dai sanitari del 118. Le è stato riscontrato un politrauma. Ha detto di essere riuscita a scappare dalla furia del figlio. Quando i carabinieri sono entrati in casa, l'uomo si è mostrato aggressivo anche nei loro confronti. È stato quindi arrestato e si trova in carcere. Ha aggredito la madre perché l'anziana gli avrebbe negato i soldi che lui, disoccupato e in difficoltà economica, le aveva chiesto. Ora parliamo di sanità. Per quale motivo? Perché vi dobbiamo riferire della lettera inviata oggi in regione all'assessorato alla sanità dal sindaco di Domodossola. Il tema non è nuovo. L'ospedale che si dovrebbe costruire in città. Per la verità sono dei dati tecnici inviati da Domodossola a Torino su richiesta dell'assessore Cardi. Domodossola vuole il suo nuovo ospedale e per questo è pronta a dare massima collaborazione alla regione Piemonte. A tre settimane dalla sua elezione, il sindaco Lucio Pizzi ha messo nero su bianco i chiarimenti richiesti dall'assessorato alla sanità di Torino, circa l'area sulla quale il nuovo ospedale dovrebbe sorgere. Si tratta di dati tecnici che l'assessore Luigi Cardi ha chiesto nel pieno del dibattito sulla riapertura del punto nascite dopo che due mamme ossolane in estate hanno dato alla luce i loro bebè in condizioni di emergenza nel piazzale del DEA dell'ospedale San Biagio. Il sindaco ha risposto ai nuovi punti ribadendo collaborazione copia del mini dossier. È stato inviato per conoscenza anche al governatore del Piemonte Alberto Cirio. Nel rispondere alle note regionali del 10 agosto Pizzi spiega perché la risposta domese arriva solo ora, bollando come strumentali le parole di Alberto Preioni, il consigliere regionale che pochi giorni fa ha sollecitato Pizzi sul tema. Prima, dice il sindaco Solano, c'erano le elezioni, spettava la nuova amministrazione fornire le indicazioni richieste. Nelle tre cartelle che accompagnano l'allegato tecnico, il sindaco domese ripercorre le tappe che hanno portato sin qui, a partire da quel pomeriggio del 25 ottobre 2019, quando al Tecnoparco il presidente Cirio e l'assessore Icardi hanno illustrato le linee programmatiche del piano di riorganizzazione sanitaria del VCO, promettendo all'ossola il nuovo ospedale. Racconta degli atti formali che il comune domese ha intrapreso fino alla stesura della bozza di accordo di programma inviata due volte agli uffici di Piazza Castello senza mai aver ricevuto riscontro. Invoca collaborazione Pizzi e sottolinea come non abbia gradito i toni usati nell'estate scorsa dall'assessore Icardi quando ha chiesto i dati tecnici sull'area di regione Boschetto. Parliamo dei 200.000 metri quadrati candidati da domodossolo ad ospitare il nuovo ospedale. Lucio Spizzi parla di toni inquisitari e azzarda un dubbio, sorge e dice spontaneo chiedersi se tutto ciò sia funzionale all'ennesimo dietro front della regione, uno dei tanti degli ultimi vent'anni. Parleremo ancora di questa questione, certamente, però rimaniamo in tema sanitario perché restano 201 i pazienti ricoverati in Piemonte per coronavirus, 17 nelle terapie intensive, 184 negli altri reparti come nella giornata di ieri. L'unità di crisi della regione registra inoltre un decesso ma non è relativo alle ultime 24 ore, 228 nuovi casi di persone positive alla Covid-19, pari allo 0,5% dei tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 115, le persone in isolamento domiciliare 3.968, gli attualmente positivi 3.854. Registrati anche 184 nuovi guariti dall'inizio della pandemia in Piemonte, ha registrato 387.988 casi, 11.807 decessi e 372.285 guariti. Ed ora invece torniamo alle pendici del Mottarone perché questa mattina la cabina, quella rimasta sospesa nell'aria lungo la fune della funivia quel 23 maggio, è stata portata alla stazione dell'Alpino. La cabina numero 4 della funivia del Mottarone, quella rimasta sospesa in aria dal 23 maggio scorso, è stata riportata alla stazione dell'Alpino. L'intervento è stato eseguito dai vigili del fuoco del comando provinciale che stanno conducendo le delicate e complesse operazioni della rimozione dei rottami della tragedia del 23 maggio scorso dalla vetta. La cabina 4, la gemella di quella precipitata, si era bloccata alle 12 al momento della rottura della fune trainante. I freni di emergenza erano entrati in funzione regolarmente ancorandola alla fune portante. Purtroppo non era accaduto lo stesso per la cabina numero 3, il cui sistema frenante di emergenza era stato bloccato con la posizione dei forchettoni, come tristemente noto dopo la confessione del capo servizio dell'impianto Gabriele Tadini. La cabina 3 era quindi schizzata all'indietro a velocità folle e con il suo carico di vite umane al pilone si era sganciata cadendo a terra. Alla stazione dell'Alpino, sotto sequestro, è conservata anche la fune spezzata che era stata prelevata precedentemente dai vigili del fuoco. Il responsabile di una discarica abusiva nel comune di Borgo Ticino è stato denunciato dai carabinieri forestali di Oleggio, l'ha certamente avvenuto nel corso di controlli del territorio durante i quali i militari hanno individuato un deposito non autorizzato di rifiuti pericolosi e non, tra i quali batterie d'auto, plastiche, metalli, materiali contenenti amianto, pneumatici, materie da demolizione, il tutto per un totale di circa 3.000 metri cubi di materiali. I rifiuti erano stipati sia all'aperto che direttamente nel terreno, ma anche all'interno di 5 capannoni. L'intera superficie di circa 7.000 metri quadrati e di capannoni sono stati posti sotto sequestro preventivo da parte dei militari. Il gestore del sito è stato individuato e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Novara per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non. Il GIP del Tribunale di Novara ha convalidato il sequestro. Proseguono intanto gli accertamenti per individuare la provenienza di questi materiali. Altro passo importante, siamo a Domenia, verso il completamento del progetto che vuole a Casa Mantegazza la casa delle associazioni di volontariato. Abemus, Papa, ma è proprio il caso di dirlo, siglato oggi il rogito di Casa Mantegazza, un giorno tanto atteso da tutta la comunità di Domenia. Sì, finalmente possiamo dire che Casa Mantegazza prenderà forma e nascerà. Per celebrare anche questo evento abbiamo coinvolto due ragazzi del liceo scientifico artistico Piero Gobetti che hanno dipinto appunto Isaia Mantegazza, che è chi rappresenta appunto questa casa, e i due figli, i figli di Mantegazza. Quindi oggi è un giorno importante e finalmente possiamo dire che nasce Casa Mantegazza. Nasce e cosa diventerà Casa Mantegazza? Casa Mantegazza diventerà il centro, il fulcro del volontariato e delle associazioni che si occupano appunto di assistenza ai più deboli sul territorio. È una struttura necessaria per il nostro territorio, soprattutto in questo periodo, e sarà fondamentale appunto per tutte le associazioni come Caritas, San Vincenzo e chiunque si aggiungerà per collaborare con noi. Assessore, insomma anche per il suo assessorato, è un giorno di festa. Assolutamente sì. È un progetto che l'amministrazione ha voluto fortemente. Siamo riusciti dopo un, devo dire, un progetto abbastanza impegnativo a portarlo a casa. Finalmente oggi abbiamo firmato questo rogito ed adesso, diciamo, è tutto in discesa. Per cui il Comune di Omenia potrà contare su una nuova realtà più bella, più funzionale e speriamo che sia in grado di soddisfare quei problemi che abbiamo sul sociale che al momento non riusciamo a gestire in maniera corretta. Andreas ha rappresentato Isaia Mantegazza. Con quale idea e perché l'hai disegnato così? Innanzitutto vorrei ringraziare Don Gianmario e Filippo per avermi dato questa possibilità, questa esperienza a BCTO. Io ho scelto di rappresentarlo così perché dato che si deve essere in uno spazio di accoglienza, questi colori portano le persone, accolgono le persone, non le respingono. E poi è un po' frammentato come se fosse un pezzo arrivi anche a noi perché la sua vita era, si poteva dire, frammentata e frammentata tra famiglia e lavoro, tra i suoi figli e la farmacia che era anche una farmacia storica di Omenia. Giovanna invece ha rappresentato i due figli di Isaia Mantegazza. Sì, esatto, ho rappresentato Piero e Livio Mantegazza che sono appunto i figli di Isaia, li ho dipinti olio su tela e li ho rappresentanti in bianco e nero perché risultino abbastanza antichi come personaggi ma che hanno comunque fatto la loro storia e sono stati molto di sostegno al loro padre, hanno continuato il loro percorso e rispetto all'altro dipinto appunto è molto più razionale, molto più classico essendo appunto in bianco e nero è fatto in modo realistico. Il giudice Elena Ceriotti al termine del processo con rito abbreviato assolto per non aver commesso il fatto Paolo Di Sabatino difeso dall'avvocato Giuseppe Russo era accusato di bancarotta fraudolenta in qualità di consigliere della società Solenia SRL tra il 2006 e il 2012. La società era stata dichiarata fallita nel 2013, Sabatino era stato rinviato a giudizio insieme al presidente del CDA amministratore delegato di Solenia SRL Giuseppe Dalbene ex amministratore anche di Cover Energy Holding Solenia SRL avrebbe dovuto realizzare una piccola centrale termoelettrica al Tecnoparco tramite fondi europei. Al termine del processo il pubblico ministero Fabrizio Argentieri ha chiesto l'archiviazione nei confronti di Di Sabatino per non aver commesso e l'ha fatto il gruppo lo ha assolto ritenendo che le prove emerse abbiano escluso il coinvolgimento dell'imputato nei fatti contestati. Ora andiamo all'ESA dove domani si riunisce il Consiglio Comunale tra le altre questioni all'ordine del giorno anche una riduzione della Tari del 30% per le attività commerciali penalizzate dalle chiusure del Covid. Intanto il neosindaco ai nostri microfoni ci spiega com'è composta la nuova giunta. Il vice sindaco che è Roberto Grignoli con una grande esperienza amministrativa su l'ESA e Federica Schiavini che era la capogruppo della precedente amministrazione e che è un insegnante delle scuole medie di l'ESA che ha una grande esperienza nel settore dell'educazione della scuola. Per quanto riguarda le ocche repubbliche Luca Bona che cosa metterà a mano da subito? Metteremo da mano da subito alcuni completamenti di opere importanti che sono state avviate che necessitavano di alcuni accorgimenti primo tra tutti il collegamento tra l'ESA e Belgirate da completare proprio perché siamo sempre più uniti a livello di territorio anche per i turisti e con questo una serie di piccoli interventi di manutenzione in modo da rendere l'ESA più bella e più fruibile anche alle persone diversamente abili perché abbiamo parecchi casi di barriere architettoniche quindi per persone che hanno problemi nella mobilità ci sono delle zone di l'ESA che non sono accessibili e questo è francamente inaccettabile. Una città un paese una cittadina che ha diverse frazioni se possiamo citare Villa Lesa non se ne offendono gli abitanti Solcio Calogna e Comunago Sì Solcio Villa Lesa Lesa che è il capoluogo Calogna e Comunago sono piccole comunità che fanno parte dello stesso comune ma che hanno anche esigenze diverse perché le due frazioni alte che sono Calogna e Comunago hanno delle peculiarità molto importanti anche dal punto di vista paesaggistico e architettonico mentre le tre comunità che si trovano sul lago ne hanno altre sono oltretutto anche attraversate sia dalla ferrovia che dal Sempione hanno il lago quindi ci sono delle è un micro diciamo un microcosmo a parte per quello che riguarda il nostro comune molto vario ha una grande estensione Lesa a fronte magari di abitanti nella media insomma della zona e quindi questo rende tutto più impegnativo ma anche più affascinante come sfida Nel fine settimana ritorna il ballo delle debuttanti Anni difficili anche per il ballo delle debuttanti ma finalmente questa manifestazione tanto attesa ritorna grazie all'impegno della solita associazione organizzatrice APEVCO ce l'avete fatta? Sì ce l'abbiamo fatta è stata dura ovviamente anche perché abbiamo rimandato l'evento nel 2020 a tre giorni dall'inizio quindi insomma abbiamo dovuto recuperare anche le ragazze che già si erano impegnate a essere presenti per il 2020 che fortunatamente quasi tutte hanno confermato ne abbiamo acquisito delle nuove avevo presenti 21 ragazze con 21 cavalieri i cavalieri saranno sempre gli ex allievi della scuola militare e le tuelie di Milano torneremo a Stresa all'hotel Regina Palace il 30 di ottobre e volevo anche ricordare che come tradizione il giorno dopo ci sarà la manifestazione dei bambini che raccoglie un numero notevole di presenze e quindi ce l'abbiamo fatta questa è una cosa importante una cosa abbiamo sentito nella presentazione questa manifestazione resta naturalmente sempre legata al nome di Stresa dove è nata ma l'intento è quello di far diventare sempre più una manifestazione di tutto il lago in sostanza certo la stiamo studiando ora adesso stiamo un po' pensando all'evento che è imminente però questa cosa penso che sarà facilmente realizzabile per completare il quadro vogliamo anche ricordare che l'evento vero e proprio sarà preceduto al maggiore da una pièce teatrale dedicata proprio a questo evento assolutamente questa è una cosa alla quale teniamo molto tra le debuttanti di quest'anno ci sono anche due verbanesi una è presente oggi qui alla presentazione dell'evento ovviamente una concorrente che il caso di dire gioca in casa ti vuoi presentare? Sì sono Camilla ho 16 anni e vivo a Verbagna l'idea di partecipare come è nata? Sinceramente è come un sogno è la possibilità di poter vivere una favola domenica prossima 31 ottobre Halloween Party al parco di Villa Fedora a Baveno a partire dalle 14 pomeriggio di divertimento a tema per la famiglia collaboratori spettacoli di magia animazione trucca bimbi tutto quanto serve per festeggiare Halloween informazioni più dettagliate presso l'ufficio turistico di Baveno ora invece vi portiamo nel sud del Piemonte se siete appassionati del mondo dei tartufi allora mettetevi comodi e scoprite insieme a noi i segreti naturalmente quelli confessabili di questo mondo voi il profumo non lo potete sentire ma vi assicuro è straordinario un tartufo di 100 grammi circa che l'avete visto è stato scovato da Walter e da Lady insieme con Zara ci troviamo nella tartufaia di Carlin De Paolo sulle colline Alfieri nella zona di San Damiano d'Asti e naturalmente non possiamo svelarvi di più però Walter che cos'è una tartufaia lo possiamo raccontare la tartufaia è un bosco che potete vedere naturale dove si trovano tartuffi dove oggi siamo stati fortunati che noi teniamo cura con cura teniamo pulita perché si dà i suoi frutti e tra l'altro abbiamo tentato di ampliarla piantando altre piante che speriamo che fra qualche anno ci daranno altri prodotti simili ci sono delle piante che favoriscono la crescita di tartufo? sì ci sono pioppi querce tigli che sono quelli che si piantano di più che crescono le fanno cresce anche nei viali nei giardini le roverelle le nocciole le nocciole selvatiche in una magica alchimia insieme con il terreno e naturalmente con il clima tu sei tartufaio da 23 anni ma come è nata questa tua passione e come si impara questo mestiere? allora la passione è nata un po' perché non ero bravo a giocare a calcio allora ho cambiato settore vedevo sempre degli anziani davanti a casa mia alla ricerca di questi tartufi e questa cosa mi ha incuriosito e da lì ho iniziato con un cane poi sono sempre andato avanti e tuttora mi piace ancora è un po' una malattia diciamo non vogliamo capirti tutti i segreti del mestiere naturalmente ma con i cani come si lavora come si addestrano gli animali allora da piccoli si inizia a farli sentire l'odore farli mangiare giocare con i tartufi e da lì loro lo prendono un po' per gioco e poi diventa un mix tra padrone e animale tra cane si forma una coppia un trio in questo caso e vanno a cercare tartufi ci sono degli attrezzi del mestiere? sì abbiamo lo zappino sapato in piemontese che serve quando dopo il cano ha raspato a scavare nella terra e poi questo me lo sono costruito io dopo un po' di anni perché per non tribulare tipo un'unchia per scavare le rifiniture i tartufi si cercano di notte perché? di notte per tradizione principalmente per non far vedere i posti e cose poi uno può anche andare di giorno però deve stare attento a non farci vedere troppo tartufo bianco e tartufo estivo sappiamo che il tartufo bianco è ovviamente più pregiato ma che differenza c'è? principalmente nell'odore che questi qua bianchi mandano un odore molto forte poi un po' di gusto le dimensioni di qua sono più belle più poi il nero ha poca sostanza ce ne è tanti più facili da trovare quindi anche qualità prodotto tutto ora noi invece diamo insieme uno sguardo alla nostra programmazione perché domani alle 18 ritorno all'appuntamento con l'infinito dentro un bisogno la trasmissione sarà in replica giovedì alle 13 e alle 21 e 30 le anticipazioni in questa puntata dell'infinito dentro un bisogno l'editoriale del nostro direttore Catarina Mandarini che ci parlerà della riforma del terzo settore e della trasmigrazione a RUNS e soprattutto dei servizi che il nostro centro mette a disposizione proprio in merito a questi aspetti andremo poi a conoscere Sermais associazione di giovani per i giovani impegnata nella promozione della cittadinanza attiva e della creazione di comunità consapevoli poi andremo a conoscere l'associazione Down Novara che oltre a gestire un centro diurno dove offre davvero tante e variegate attività alle ragazze che lo frequentano gestisce anche un piccolo bar dove le ragazze per l'appunto hanno l'opportunità di lavorare ma vediamo un piccolo estratto di quello che ci aspetta Sermais è un'associazione di promozione sociale che nasce a Novara nel 2008 con l'intento di incontrare i cittadini soprattutto quelli più giovani provando a far sviluppare in loro un senso critico e permettendogli di vedere il mondo che li circonda con occhi diversi negli anni Sermais ha portato avanti numerose attività che si sono sviluppate soprattutto nelle scuole nelle scuole abbiamo avuto l'occasione di conoscere e incontrare molti ragazzi che sentivano il bisogno di fare qualcosa di più e da qui anche quello che è il senso di Sermais che nasce proprio dal suo nome Sermais dal portoghese essere di più vi aspettiamo naturalmente su VCO Azzurra TV all'infinito dentro un bisogno noi invece siamo allo sport il calcio CSI continua la marcia dell'Atletico Coggia nel gironeale il calcio a 7 del CSI la capolista ha infatti fatto poker vincendo 5 a 2 contro l'Arcarias a meno 2 in classifica ci sono Masera United e la Cadrega che hanno battuto rispettivamente 2 a 0 il road caffè e 5 a 3 le zampine orna una squadra ancora a punteggio pieno anche nel raggruppamento B è il pallanzeno che ha fatto suo lo scontro diretto con il Divin Porcello battuto 7 a 4 a quota 9 anche gli irriducibili domodossola che hanno avuto ragione della fulgor vanzone 5 a 3 Ezio e San Martino invece a comando nella C i primi hanno travolto 13 a 1 la San Giorgese i secondi hanno superato all'inglese 2 a 0 il Biganzolo terza piazza per il caffè Stangrini che ha sconfitto 5 a 3 il Porchis Trobaso in attesa della partita dell'Old Dominion CSI che gioca domani sera con il River Plus nel Girone D in testa l'Ellas Verbagna Azimut VCO che ha mandato al tappeto 5 a 2 il Paolone Stresa a 7 punti il Luzzogno che ha superato 2 a 0 i Verbagna Bursa un terzetto comanda il Girone E dopo la prima sconfitta stagionale della Synergy battuta dal Bresino che l'ha così agguantata a quota 9 dove troviamo anche il Pesce d'Oro a segno 9 a 4 sulla Rapide Pogno nel Calcio a 5 sono rimaste 2 le squadre con percorso netto il Birra Real che ha superato 8 a 4 la Cipicchia e la Divin Porcello 5 che ha segnato 13 gol su Vendone 7 all'Old Dominion CSI è tutto per gli aggiornamenti vi rimando al nostro sito vcaazzurotv.it grazie e buon proseguimento grazie